Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Oggi non parleremo di un argomento ma potrebbe quasi essere Comunque, oggi faremo una cosa davvero molto stupenda Darò ad alcuni video una promessa, cioè una promessa di like Se avete presente che voi accendete un video, ad un certo punto dicono A 50.000 like faccio quella cosa, a 50.000 like mi raso i capelli e tutto via Ma prima cosa, vorrei fare un video che si svolgerà in due modi La prima è scelta da me, poi la seconda scelta da un'audizione Ovunque, diamo allo speciale, apro il canale, o da un traguardo Se questo video arriva a 10 like, imparo uno stile di pianoforte Che è il piano, come vedete c'è un piano Si trova proprio qua, guardate come è questo piano E tipo, io posso fare una E tipo, adesso facciamo una composizione bella Composizioni belle, non quelle brutte Come ad esempio Non mi ricordo i tasti, sono un ciccione Ma vabbò Ok Per la seconda Allora, per sottotitoli sbagliati uno Allora facciamo che Al raggiungimento di 5 E almeno 5 mi piace Faccio una Una mappa Una mappa Faccio una mappa con una scritta in greco Su Super Mario Maker Si proprio Faccio una mappa in sile greco Che lo dovrò imparare in 5-4 anni Boh Ma comunque andiamo alla prossima Allora Allora, se il video in cui vi mostro quelle versioni di Dell'uomo ragno Arriva a ben 3 Facciamo una cosa strana Allora, in realtà facciamo un secondo canale Faccio un primo video E il secondo video Lo taggo con un hashtag Con l'hashtag Perdi sedere È offensivo Non bloccatevi il video Comunque A raggiungimento Allora Poi Allora Mettiamo A parte Mettiamo le cose assurde Della Della Del caro Del caro Show del cervello O Mind Show Come viene chiamato Originalmente A raggiungimento di 4 E dico 4 Cambio il mio Cambio il mio Nome In Cambio il mio nome Con un rapper americano Ad esempio Se questo Fa Se questo Allora Io Mi cambiero il nome In Eminem Sembra quasi una cosa Dunque Le 50 cose Che vedrai Per la prima volta Nella tua vita A raggiungimento Di Ben 6 Si Proprio 6 Scrivo Scrivo Su un foglio Una Una battuta Di Albert Einstein Come Ad esempio Ad esempio Un Infinite Eh si Esatto Poi Allora Aspetta Potremmo fare un'altra cosa A raggiungimento Di 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 Ben 7 O 4 Non lo so Al video Delle 50 cose Che ti faranno Rientare Einstein Vado Vado sul Sub Sub Reddit Italiano Mi Faccio Un mio Account E posto Un Un Meme Un meme Un meme Con tutto Con Solo Fatto Di Simboli Dei soldi Come Gli euro O I dollari O Tutte le altre cose Ebbene Adesso Allora Questa è solo Una delle cose Ne aveste visto poche Ma come sapete Andiamo adesso A fare questa cosa Ok Allora Mi vedete Sì Ok Poi Dobbiamo Mentre Fa Ok Se Vi vedete Ecco Qua La cosa Dello Spartito E Seg E Come vi ricordo Suonerò Un tipo Di piano Ma comunque